Avrebbe lasciato i suoi figlioletti in spiaggia a Voltri per andare al bar con un amico. I fatti si sono verificati in Liguria, dove una donna ha lasciato i figli 2, 3 e 5 anni per diverse ore da soli in spiaggia. Diverse testimoni l'avrebbero vista fare ritorno sull'arenile completamente ubriaca. I presenti hanno quindi deciso di allertare i carabinieri dopo aver visto i bimbi girare in spiaggia senza che nessuno li controllasse. Ad avvicinare i minori alcune mamme che li hanno convinti a giocare con i propri figli, nel frattempo hanno provveduto ad allertare le forze dell'ordine. In attesa dell'arrivo degli agenti, le mamme presenti hanno rifocillato i bimbi. Le forze dell'ordine sono arrivate sul posto poco dopo la segnalazione e si sono subito messe alla ricerca della giovane mamma. Le operazioni però non hanno portato a niente per diverse ore. La donna si sarebbe palesata da sola dopo molto tempo, mostrandosi visibilmente ubriaca. A quel punto i carabinieri hanno dovuto placare l'ira dei bagnanti in spiaggia che hanno accolto la mamma con decine di insulti. Gli agenti l'hanno denunciata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le hanno fatto sapere che i bimbi di 2, 3, 5 anni sarebbero stati affidati a una struttura per minori. Dopo aver appreso questa notizia, la turista di Pavia avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i militari. Le forze dell'ordine sono riuscite a fermarla solo dopo una colluttazione durata alcuni minuti. La donna è stata immobilizzata e poi denunciata anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.